Inclusione sociale e contrasto alla lotta della povertà e della condizione di dipendenza economica delle donne vittime di violenza di genere. Sono gli scopi di una nuova iniziativa finanziata dalla Regione Molise che ha nell'agricoltura il primo fattore trainante. Gli interventi sono finalizzati al reinserimento del tessuto sociale lavorativo e sono rivolti alle donne vittime di sfruttamento sessuale lavorativo. Un progetto di promozione dell'occupazione di donne vittime di violenza, dell'inserimento socio-lavorativo delle vittime di violenza perché siamo partiti da una considerazione. Oggi il Molise sicuramente ha fatto dei passi avanti molto importanti per la tutela di questa categoria di persone fragili poiché oggi abbiamo finalmente un centro antiviolenza, quello gestito dalla cooperativa sociale Be Free di Roma, abbiamo una casa rifugio, abbiamo quindi tutta una serie di azioni che mirano al supporto psicologico, alla valutazione e anche in qualche modo alla promozione del benessere psicologico in generale di queste donne. Tuttavia mancavano ancora delle azioni specifiche che mirassero proprio a rendere la donna indipendente dal punto di vista economico e questo è un fattore di rischio importante su cui abbiamo chiaramente attivato la nostra attenzione, abbiamo progettato e proposto alla regione Molise questo progetto. L'iniziativa è stata promossa da un raggruppamento temporaneo di scopo che comprende la cooperativa sociale Cairos di Termoli, il centro antiviolenza del Molise e la cooperativa sociale Casa Rifugio Be Free di Roma. Per poter meglio assistere tutte le donne oggetto di violenza l'appello è sempre lo stesso, denunciare tutti gli abusi. Il sommerso è tanto, anche dai guaderni del Formel si emerge per il Molise, il percentuale addirittura attorno al 95%. L'appello è quello di rivolgersi sicuramente ai centri antiviolenza come possibilità di sviluppo, possibilità di empowerment e di liberazione dalle situazioni della violenza, in particolare rivolgiamo l'appello alle mamme, perché possono offrire delle possibilità ai propri figli, quindi di liberazione da situazioni in cui i bambini possono avere delle sofferenze veramente grandi e nei centri antiviolenza se bambini hanno dei servizi specifici.